La bacchetta magica non ce l'ha nessuno, il campionato lo vince solo una squadra, una seconda con la roulette dei pre-off, noi intanto puntiamo a un campionato di centro alta classifica, poi una volta che siamo in gioco si vedrà, ma con calma perché adesso vediamo di formalizzare la mia posizione che penso che non ci siano problemi. Io ci tengo a rimanere a San Benedetto perché sono di San Benedetto, sono stanco di viaggiare, l'ultima promozione della San Mettese alla B c'ero io e mi auguro di fare anche questa, però chiaramente non è che sono un dirigente sportivo che si propone perché non ho bisogno di propormi, non ho bisogno di santi in paradiso né di spinte, perché la mia carriera che parla per me stessa l'obiettivo l'ho raggiunto, a questo punto se si vuole fare un discorso importante io sono qui a disposizione della San Mettese, caso contrario pazienza.